buonasera a tutti eccoci qui per un nuovo appuntamento con la semina però con una persona che già conosciamo molto bene e davvero senza retorica caspita è sempre un onore un piacere a averla come ho come 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 relatrice sto parlando ovviamente di simona bartolena storica critica d'arte iperattiva ne stavamo parlando pochi secondi fa e che come dire ci regalerà questa sera un viaggio virtuale naturalmente nel mondo di federico faruffini e dell'arte italiana dell'ottocento che lei scrive a volte è sottovalutata magari nel confronto no con l'esorbitante straordinaria produzione artistica francese ma che però non implica che non sia interessante rispettabile anche quella autottona diciamo così e mi piace dire che in in qualche maniera questa sera mettiamo insieme il meglio di due mondi perché e siamo ancora online dove però questo ancora non è in senso limitante nel senso che ci permette di raggiungere molte persone molto più semplicemente ma proprio simona bartolena ha curato una mostra in villa borromeo ad arcore giusto simona dedicata proprio a federico faruffini e a questi temi e che sarà aperta fino a fine mese fino a fine mese di giugno esattamente sì fino al 27 giugno oggi online virtualmente ci facciamo introdurre da simona su questo argomento poi perché no un'occasione per chi insomma non è troppo lontano ne ha la possibilità di peraltro anche di visitare un bel parco una bella struttura che è quella di villa con una mostra quella mostra di cui appunto stasera simona ci dirà qualche ci darà qualche anticipazione come tradizione della seminale le presentazioni sono super rapide e quindi lascio subito volentieri la parola e il controllo a simona grazie davvero ancora per essere qui fra noi grazie mille a voi anche per la presentazione e per avermi invitata a parlare di questo tema a cui tengo moltissimo sia perché appunto c'è una mostra aperta quindi quando questi argomenti riguardano delle mostre che ho curato chiaramente diventano in automatico per me argomenti prevalenti ma questo è un argomento anche che mi ha veramente molto affascinato e appassionato perché stiamo parlando di un artista che forse non è così noto a livello di grande pubblico no l'ottocento italiano già come diceva giustamente stefano è molto meno eclatante di quello francese a livello di notorietà quindi chiaramente noi non possiamo pensare che improvvisamente il grande pubblico si accorga che l'ottocento italiano ha un suo importante valore al di là dei soliti nomi perché in italia quando si dice non so i macchiaioli piuttosto che segantini piuttosto che boldini c'è già un richiamo di pubblico importante sono movimenti o personaggi che hanno conquistato in qualche modo anche un po l'opinione pubblica più diffusa mentre invece certi artisti rimangono ancora oggi più di nicchia più per addetti ai lavori nonostante siano importantissimi per la storia dell'arte ecco faruffini è uno di quelli ma faruffini oltre a essere molto importante per la storia dell'ottocento italiano direi un anello di congiunzione definiamolo così è quindi un punto di passaggio di non ritorno tra il romanticismo la pittura del vero e una nuova generazione che sarà poi quella scapigliata perché faruffini è stato molto amico di tranquillo cremona in qualche modo neanche un po anticipato a certi tratti la poetica quindi è uno snodo di cambio di modalità di pensiero di un'intuizione moderna in un contesto ancora classico romantico dunque appunto oltre a essere così importante faruffini anche a una vita che merita di essere raccontata una vita che quando la si legge la si percorre viene veramente voglia di scrivere un romanzo e è un artista con delle luci delle ombre delle fortissime contraddizioni anche a livello pittorico anche a livello di produzione e quindi molto interessante anche da approfondire in quella direzione la mostra di arcore racconta attraverso i quadri ma anche attraverso le parole quindi anche attraverso pannelle esplicativi insomma di da scalì raccontate la vita e l'opera di questo artista così particolare e stasera vedremo anche perché così particolare così incollocabile ecco uno dei grandi delle grandi questioni di Federico Faruffini è la sua non appartenenza a un movimento non possiamo definirlo con i classici modi con cui noi arginiamo la storia dell'arte cioè appunto un macchiaiolo uno scapigliato un divisionista Faruffini è un personaggio autonomo è un personaggio che ha pagato la sua autonomia anche eh dal diciamo quando era in vita anche quando raggiungeva o non raggiungeva il successo eh non riuscì mai a eh trovare una sua stabilità una sua pacificazione anche in momenti di grande favore di grande fortuna della sua vita ma andiamo con ordine perché io stasera vorrei parlarvi di Faruffini introducendolo un po' nel suo ambiente nel suo mondo nel suo spazio tempo paragonandolo anche ad altri artisti che hanno vissuto eh nello stesso periodo Faruffini era nato nel 1833 suo padre era un farmacista aveva trasferito la famiglia eh a Sesto San Giovanni e e Faruffini nasce per l'appunto a Sesto ma eh suo padre lo indirizza non alla sua professione ma lo iscrive all'università di giurisprudenza di legge e Faruffini intraprende a Pavia dove già viveva suo fratello degli studi appunto di legge studi che lui non ha mai di fatto rifiutato totalmente ha concluso il corso di studi anche se non sappiamo se si sia laureato o meno ma che non gli apparterranno mai in modo profondo anzi che di fatto rifiuterà da subito eh per favorire invece la sua passione per la pittura eh infatti a Pavia mentre studia all'università studia anche arte alla scuola di pittura di Pavia che eh gestita da un personaggio molto particolare che anche lui meriterebbe forse una riscoperta che è Giacomo Trecourt eh non è l'Accademia di Brera non c'è Hayez non ci sono i Bertini di turno eh non ci sono cioè quei grandi professori no che in qualche modo hanno connotato il romanticismo e il post romanticismo italiano c'è un personaggio anche lì un po' trasversale Trecourt per l'appunto che nella sua eh vita ecco quella che avete visto prima un autoritratto giovanile di Faruffini questo è una suo biglietto da visita una sua carte eh fotografica con diciamo così giusto per familiarizzare anche con il viso dell'artista oltre che con la sua opera e dicevo eh Faruffini va eh a studiare arte a Pavia che ha un clima artistico che non è quello di Milano e questo è molto favorevole per un carattere come quello di Faruffini che ha bisogno anche di essere rassicurato o accompagnato quindi a Pavia non troviamo Francesco Hayez che di fatto primeggiava ancora in quegli anni in tutto il nord Italia ma in particolar modo a Milano voi tenete presente che questo dipinto celeberrimo di Hayez che sta a Brera direi uno dei dipinti più famosi dell'ottocento italiano non fosse altro per quante volte è stato riprodotto anche sulle scatole di cioccolatini no proprio un'icona del romanticismo italiano di fatto è un quadro abbastanza tardo perché Hayez ne ha dipinte varie versioni fra il cinquantanove e sessantasette quindi non è un quadro così eh databile alla prima metà dell'ottocento e quindi all'epoca romantica è un quadro romantico ma di un pittore già formato e già nel pieno della sua maturità quindi negli anni sessanta cinquanta sessanta quando Faruffini comincia a dipingere a farsi conoscere in Italia di fatto Hayez primeggia ancora con questi suoi dipinti che sono straordinari dal punto di vista dell'impostazione della ricchezza cromatica della sontuosità e sono quadri che sembrano quasi imprescindibili per un pittore di quell'epoca difficile ambire ad essere un pittore di storia senza confrontarsi con Hayez difficile pensare di diventare qualcuno senza guardare al maestro Hayez eppure come vi dicevo ecco qua un altro capolavoro straordinario di Hayez in realtà Faruffini ha un professore trecourt che è sì romantico ma un po' più defilato un po' meno diciamo così noto sicuramente ma anche meno assoluto dal punto di vista della pittura di Hayez se pensate i dipinti che vi ho mostrato prima con questa costruzione melodrammatica teatrale di cui Hayez era maestro assoluto nella messa in scena quasi fosse un regista teatrale invece poi lo confrontate a questo Byron in Grecia di trecourt vi rendete conto che pur essendo anche qua un soggetto romantico Byron chi più di Byron il poeta no è un'icona del romanticismo ma trecourt ha già uno sguardo un po' diverso che si apre anche a un tipo di colorismo più libero di tocco più dinamico anche perché trecourt era molto amico di un artista che Faruffini amerà molto non solo Faruffini tutto quel mondo anche gli scapigliati lo ameranno molto un artista indefinibile complicatissimo da collocare che appartiene alla generazione romantica come età anagrafica ma che di fatto romantico non è stato mai questo artista è il Piccio Giovanni Carnovali detto il Piccio il Piccio è un outsider non saprei come altro definirlo è uno di quei pittori che si fa veramente fatica a spiegare anche dal punto di vista proprio della sua eh formazione no lui ha studiato con Diotti che è un artista classico e si è formato fra Bergamo Pavia e la sua identità pittorica è un'identità innanzitutto modernissima perché interpreta con questa pennellata dinamica che a volte fa quasi eh presagire l'impressionismo anche se assolutamente gli è lontanissimo per tanti motivi ma c'è questa velocità di tocco che è sorprendente nell'Italia degli anni quaranta cinquanta dell'ottocento e poi c'è per esempio l'intuizione di dipingere primo e secondo piano con lo stesso tocco libero quindi il Piccio non fa quello che si insegnava all'accademia di dipingere definito il primo piano e poi sfumare al limite lo sfondo ma dipinge tutto con la stessa velocità e questo insegnamento andrà diretto alla pittura degli scapigliati che dipingono proprio come il Piccio un po' meno a quella di Faruffini che però del Piccio guarderà anche la libertà di eh approccio all'iconografia Piccio è se stesso che dipinga quadri religiosi come quello precedente che vi ho mostrato o come questo la pala di Alzano Lombardo che è una pala che fu rifiutata dalla committenza del tempo perché ritenuta eh troppo mh libera per un soggetto sacro per una pala d'altare o che sia un ritratto una figura come in questo caso in cui il Piccio veramente sfodera una verve moderna anche nella posa nel taglio nell'approccio alla figura che lascia sempre molto colpiti e questa differenza questa diversità del Piccio colpirà profondamente anche questi giovani artisti. Faruffini appunto nella piccola pavia ha occasione di incontrare anche attraverso il maestro Trecourt l'opera di questo notevolissimo eh personaggio e in qualche modo comincia a restare influenzato. Lui più volte lo lo cita anche insomma nel nei suoi scritti e si ricorda degli insegnamenti. Con Trecourt non va d'accordissimo. A un certo punto Trecourt lo deve anche espellere dalla scuola o almeno fa richiesta perché venga espulso dalla scuola non perché è incapace di dipingere o di disegnare ma per motivi di insubordinazione. Faruffini è ha un carattere molto difficile da gestire e Trecourt di fatto si trova costretto per un rifiuto di Faruffini a partecipare a un concorso poi invece i giovani allievi erano tenuti in qualche modo a a fare viene si fa richiesta dell'espulsione dalla scuola. In realtà poi la cosa rientra ma eh nostro Faruffini deve comunque lasciare Pavia. Lascia Pavia per tornare a Milano per fare il suo tirocinio in uno studio legale e a Milano in qualche modo prosegue nella sua eh indagine pittorica tenendo sempre forte però con sé l'impronta di questi maestri. Il terzo riferimento di cui vi volevo fare cenno è un riferimento che Faruffini in realtà frequenta già negli anni romani ma essendo anche lui pavese eh lo possiamo tranquillamente inserire in questo gruppo di pittori imprescindibili per la formazione di Faruffini. Questo pittore si chiama Cherubino Cornienti e se già il Piccio e Trecourt non sono molto noti Cornienti lo è ancora meno. Cornienti è un altro di quei personaggi che meriterebbe un approfondimento e un'attenzione di un certo tipo. È un artista che eh ha in qualche modo eh guardato a altri esempi oltre ad Aiez. Questo quadro ad esempio che è in Musei Civici di Pavia sono i profughi di Parga soggetto che lo stesso Aiez aveva dipinto con tutt'altra modalità con tutt'altra appunto tutt'altro approccio. Aiez ne aveva fatto un'immagine che definirei verdiana un coro verdiano con alle spalle la città di Parga un quadro epico melodrammatico e invece Cherubino Cornienti lo trasforma in una scena di fuga intima quasi sacra al punto che eh in una mostra del tempo questo dipinto viene esposto accanto alla fuga in Egitto del Piccio che vi ho mostrato prima nella sala dei quadri religiosi anche se di fatto questo non è un quadro religioso è un quadro di storia contemporanea. E questo per dirvi come Cherubino Cornienti sia un altro di quei pittori che scappano dalle impostazioni, dai cliché, dai canoni dell'ottocento del tempo. Per Cornienti uno dei grandi modelli fu Briuliov pittore russo che veniva in Italia con un quadro che ha fatto molto scalpore gli ultimi giorni di Pompei e che diventa proprio amico di Cornienti fino al punto da costituire per lui il maestro d'elezione da seguire. Quindi in un certo senso tutti i pittori che accettano Hayez lo riconoscono come gigantesco ma non intendono farne un modello per sé. E questo per un pittore degli anni quaranta cinquanta dell'ottocento è una scelta forte. È una scelta che non lascia indifferenti perché Hayez aveva veramente la come dire il dominio dal punto di vista della pittura soprattutto di storia ma non soltanto. E il giovane Faruffini quando comincia a dipingere poi vi mostro un quadro anche precedente di datazione rispetto a questo ma mi piaceva partire da questo quadro che è già stato dipinto poi nel soggiorno romano ma che ci aiuta comunque a capire il discorso che vi sto facendo. È ovvio che Faruffini si metta in un corso di pittura di impronta romantica nei soggetti perché quello era il clima che ancora lo circondava nel nord Italia. Ma il suo approccio è già differente. Il suo approccio guarda già ad altro, esplora già altri mondi. Questo è un dipinto tra i primi diciamo notevoli dell'artista si chiama Raffaello e la fornarina ed è un'opera che classicamente va a indagare la vita di un personaggio famoso per l'appunto Raffaello immaginandoselo nella sua intimità. Non è una grossa novità. Quadri di questo tipo gli avevano fatti anche Enger, grandi pittori romantici, ne esistono moltissimi dedicati a Michelangelo, a Raffaello, a Galileo Galilei, ai grandi della storia del passato. Ma quello che è interessante è che Faruffini oltre a soffermarsi su queste due figure che ritrae in modo molto intimo, avvolgente, morbido, guarda questo scorcio di paesaggio meraviglioso alle spalle quasi dandogli un'atmosfera dal vero. Non lo definirei en plein air, diciamo così, ma sicuramente già con un'intenzione di luce, di modulazione atmosferica che va al di là del soggetto storico classico e sicuramente va al di là di Hayez perché non c'è tutta quella teatralità che invece i quadri di Hayez hanno nel loro DNA, il melodramma, la teatralità. Non per nulla Hayez si mette sempre in riferimento alle vicende teatrali, Giuseppe Verdi per primo, ma non soltanto, perché ha questa potenza, questo melodramma che invece Faruffini più vicino agli esempi che erano stati i suoi maestri, ha in modo molto meno evidente, tende quanto meno ad evitare. Anche nei soggetti di genere Faruffini è notevolmente originale. In chiesa, ad esempio, è un quadro che è abbastanza diffuso come iconografia nell'ottocento italiano, soggetto di genere, la famiglia appunto, lei vestita a lutto che escono dalla chiesa, un quadro molto triste, molto cupo del soggetto, che però Faruffini risolve con un taglio compositivo a dir poco sorprendente. La balaustra in primo piano che taglia la figura, il punto di vista dall'alto verso il basso, questa macchia di luce e già noi osserviamo alcuni elementi che poi diventeranno tipici suoi, ad esempio l'uso di queste macchie rosse, blu, verdi, che accendono improvvisamente il quadro. Lui è stato uno straordinario colorista, ha usato la tavolozza in maniera sempre intelligentissima e fin da giovane rivela questa dote, diciamo, in maniera piuttosto evidente. Il quadro che lo ha rivelato al pubblico del proprio tempo è un quadro del 1855 ed è un quadro molto bello. È dedicato a un personaggio che ai romantici piaceva molto e anche un po' a tutta l'Italia risorgimentale, Cola di Rienzi. Piaceva perché era stato un po' identificato con un personaggio che ha lottato per la libertà, no? Quindi si associava un po' alle istanze risorgimentali ed era diventato un'icona come molti altri personaggi della storia rispetto appunto alle temperie degli italiani in lotta per l'unità del proprio paese. Ecco, questa incredibile tela, già molto compiuta e pensata, anche se Farufini è ancora un pittore dalle prime armi, tutto sommato, quando lo realizza, riporta ancora una volta il clima che avevamo già osservato per il Raffaello e la Fornarina, cioè questo paesaggio luminoso, caldo, avvolgente, i colori, no? Questa accensione delle calze di questo arancione brillante e anche il mood proprio del dipinto è straordinario. Innanzitutto questo è un suo autoritatto, quindi lui si mette nelle vesti di Cola di Rienzo e posa per il suo personaggio, ma soprattutto ha questa tendenza a rendere intima la situazione, lo sguardo perso nella, diciamo, all'orizzonte. Tanto è vero che se il quadro raccolse delle critiche positive ci fu anche qualcuno che disse che non era abbastanza drammatico, no? Per il soggetto rappresentato. A un pittore di storia si chiedeva ancora di fare Hayez e lo si chiederà ancora a lungo nel nord Italia, ben dopo Farufini, ben dopo questa novità importata dal giovane Farufini. Questo è il disegno preparatorio del dipinto che ci fa capire come un altro talento di Farufini fosse avere le idee molto chiare e avere un'attenzione spasmodica per la composizione e i dettagli. Anche i quadri di Farufini che sembrano risolti con più velocità sono sempre frutto di uno studio attentissimo con disegni preparatori, studi, era un perfezionista da questo punto di vista, anche se poi le sue opere sembrano sempre molto immediate, vere, non così meditate come in realtà erano e come. Un modello possibile per questa nuova pittura di storia in realtà c'era. Ed è un pittore che Farufini apprezza e che in qualche modo si accompagna anche a degli artisti con cui Farufini ebbe anche un'amicizia, un legame personale. Questo pittore è Domenico Morelli. Domenico Morelli ha importato in Italia un concetto che in Francia aveva già i suoi esponenti con Paul Delaroche e i pittori, diciamo, di quell'area che è il concetto di verissimiglianza, che è un concetto molto particolare dal punto di vista, diciamo, della della gestione pittorica, perché Morelli di fatto cosa diceva? Che un quadro di storia antica doveva essere vero e immaginato nello stesso tempo, cioè pur nell'immaginazione del soggetto, l'artista doveva fare in modo che il soggetto sembrasse verissimile. Quindi come se noi in questa scena potessimo entrare, percorrerla, parteciparvi, essere parte del momento storico. È un approccio diverso a quello di Hayez, perché Hayez era appunto il regista che guarda attori su un palcoscenico. E invece in Morelli c'è questa tridimensionalità, questa fisicità delle figure, questo approccio molto più verissimile, molto più fotografico vicino a chi guarda, che anche nella costruzione dell'opera fa di gran lunga la differenza rispetto all'esempio a Hayeziano. Morelli è considerato il grande innovatore della pittura di storia italiana. Insieme a lui, Altamura, Bernardo Celentano, altri artisti di questa generazione. E bisogna dire che il suo esempio non fu prezioso solo per pittori di storia, come in parte fu Faruffini, ma anche per altri artisti. Quel monaco nero su fondo bianco ha condizionato tutta la pittura di macchia, ad esempio. Se voi leggete gli scritti di Banti, di Borrani, insistono spesso dicendo che quella macchia nera su fondo bianco gli aveva fatti riflettere sui valori cromatici, sulla macchia. Quindi Morelli è un artista importantissimo per la metà dell'Ottocento. Questo dipinto porta proprio lo stesso anno del Cola di Rienzi, 55, ed è un'opera che è risolutiva dal punto di vista delle novità sulla pittura di storia, che cerca nuovi territori. Anche un tono più intimo, più abbassato rispetto alla clamore della pittura aieziana. Questo è sempre Domenico Morelli, il tasso che legge il suo libro a Isabella d'Este ed è un quadro che di nuovo traduce la storia in un contesto familiare, intimo, silenzioso e è questo che interessa a Faruffini, è questo approccio alla storia, quello che legge il momento di quotidianità anche nella vita dei grandi. Questo è uno dei quadri che Faruffini ha dedicato a Dante, tanti, era una sua grande passione, e lo ritrae di fronte a casa della famiglia a Lighieri, a Firenze. Questo è il bozzetto preparatorio di un quadro che poi realizzerà, ed è anche in questo caso la scelta nasce da una sua esperienza personale. Lui è a Firenze, vede la porta di casa Lighieri, viene tutta l'immaginazione del mondo su questo scrittore che lui ama così tanto, scrive a casa dicendosi di essersi emozionato, e nasce questo dipinto. Ecco, quindi la storia è rivissuta in una dimensione meno clamorosa della storia romantica, meno epica, meno assoluta, più gestita sul rapporto intimo, sul sentimento, qui c'è già tanta scapigliatura. Questo è un quadro che sta a Brera, che non è in mostra, si chiama Sordello e Kunizza, ed è un esempio però, ve l'ho portato, anche se appunto non è esposto in mostra, perché è un esempio, a mio avviso, imprescindibile dell'anglosassonità, dell'inglesità della pittura di Faruffini, come di quella scapigliata, perché si parla sempre della Francia, ma in realtà in questi anni l'Ottocento è interessantissimo, anche in Inghilterra, tutta la vicenda pre-Raffaellita, tutto quello sguardo, su una pittura anche letteraria, che è più vicina paradossalmente a Faruffini di tanti esempi francesi. Questo verde, dell'abito di lei, ma anche la costruzione dell'insieme riporta più verso l'Inghilterra che verso la Francia. Ciò vuol dire che Faruffini è un artista attento, è un artista che si guarda in giro, che capisce, che elabora, cercando di fatto una direzione che forse non troverà mai, perché ha sempre evitato di entrare in un cliché, quindi di fatto ha sempre cercato nuove soluzioni, negando anche se stesso a tratti, nella sua ricerca. L'unico quadro di storia contemporanea che ha realizzato Federico Faruffini è un quadro che ha una storia ben particolare, che vi racconto perché anche in questo senso ci sono molte informazioni su di lui anche importanti. Questo è il bozzetto preparatorio e questo è il dipinto finito che si trova al Museo del Risorgimento di Pavia, un quadro molto importante, il bozzetto lo abbiamo in mostra ed è interessante proprio vedere la differenza, ma anche la similitudine fra il primo studio e poi l'opera definitiva. Questo lavoro Faruffini lo realizza per un amico, Ernesto Cairoli, che era veramente uno dei suoi migliori amici, ma Cairoli, Faruffini scrive delle lettere molto intense e anche con un rapporto veramente di amicizia per cui si passa da discorsi serissimi su Dante a invece frasi amichevoli, anche più volgari, più triviali, quindi c'è un approccio molto intimo tra di loro. Ernesto Cairoli muore, muore nella battaglia di Varese e lascia come legato testamentario nel suo testamento, lascia dei soldi a Faruffini perché faccia un quadro dedicato al risorgimento e quindi Faruffini non può esimersi, anche se la pittura di storia contemporanea non era il suo mondo, di fatto realizza una delle opere risorgimentali più originali di tutta la produzione risorgimentale italiana perché lui cosa fa? Dal subito, fin dal bozzetto, non sceglie la battaglia, non sceglie la celebrazione dell'eroe, sceglie l'esatto momento della morte dell'eroe, cioè quando Ernesto Cairoli viene colpito e lo vedete bene qui per la definitiva sulla destra che si inarca indietro perché viene per l'appunto colpito da una pallottola e in questa sorta di corsa verso di noi, dei soldati, qualcuno caduto, qualcuno ferito e c'è un coinvolgimento dello spettatore anche in questa esplosione, vedete, della composizione che non ha argini, non ha confini, è ribaltata verso di noi, quindi oltre ad essere una sorta di frame cinematografico, un istante bloccato, ha anche un tasso di coinvolgimento, questo è anche un quadro di dimensioni molto importanti, quindi chiaramente l'impatto è molto forte, ha un coinvolgimento dello spettatore che è notevolissimo e che scampa dall'ipotesi della classica celebrazione dell'eroe, se voi lo paragonate con altre morti di eroi risorgimentali, fra cui anche quella di Enrico Cairoli, del fratello di Ernesto dipinto da Gerola Menduno, vi rendete conto che lì c'è un richiamo addirittura agli stilemi della pittura sacra, la deposizione di Cristo, piuttosto che il compianto su Cristo, traslati nell'eroe risorgimentale. Qui invece abbiamo una scelta innovativa, dinamica, coinvolgente, che sfugge ancora una volta ai canoni precostituiti del genere. Ecco Farufini è sempre stato attento a questo, a sfuggire ai canoni precostituiti, anche quando dipinge quadri su commissione, quindi più commerciali tutto sommato, riesce comunque a salvare sempre l'originalità dell'impianto scenico, dell'iconografia. Farufini in quegli anni frequentava Tranquillo Cremona. Gli ho portato questo quadro perché è un po' un'icona della prima scapigliatura, Nicola Massa, quadro pavese, e con Tranquillo Cremona, che sarà poi il padre della scapigliatura, Farufini va all'esposizione di Torino, insomma vive la vita quotidiana degli artisti del tempo. Tra i due c'è un legame solido, destinato però a spegnersi lentamente, inesorabilmente, anche per le scelte di vita di Farufini, che dopo aver appunto essersi trasferito a Milano, si è trasferito a Roma, e poi ha cominciato un po' un periodo di transizione che lo porterà poi ad arrivare a Parigi. Perché Parigi? Perché Farufini decide di esporre, insomma cerca di entrare al Salone e ci riesce, un quadro molto interessante, di cui vedete il disegno preparatorio in questa immagine, poi vi mostrerò anche il quadro, un quadro di grandissime dimensioni che lui aveva realizzato in Italia, aveva esposto in Italia guadagnandosi parecchie critiche, quindi di fatto un quadro che non era piaciuto, non era stato capito dalla critica italiana, almeno non completamente, non era stato distrutto, però insomma non aveva avuto un'accoglienza così calorosa, e che invece in Francia vincerà il Salone. Nel 66 Farufini si guadagna una medaglia d'oro al Salone, cosa che vi ricordo a nessun impressionista è mai riuscito, quindi di fatto lui è arrivato da italiano a Parigi nel 66, che è un anno interessante, adesso vedremo anche perché è così interessante il 66 per la scena parigina, con questo dipinto che lui ha molto studiato con disegni, con bozzetti, con tutti i mezzi possibili, esistono tantissimi bozzetti, tantissimi disegni che insistono sui due personaggi e che alla fine è questo il risultato, un quadro enorme che sta ai Museo Civici di Pavia, si chiama Borgia e Cesare Borgia e Macchiavelli ed è un quadro interessante fin dalla scelta del soggetto. Perché non è un soggetto poi così interessante? Con tutte le vicende che poteva scegliere nella vita di entrambi i personaggi, lui ha scelto un momento abbastanza, diciamo così, oscuro, non così coinvolgente, insomma non così interessante. E lo ha ammesso però dal punto di vista proprio della lettura, direi psicologica, perché i due personaggi si scrutano, si vede la sfacciataggine del Borgia, invece l'intelligenza sottile di Macchiavelli, quindi c'è un'attenzione per i caratteri, per l'individualità di questi due personaggi, che è quello che tiene insieme il quadro con la composizione, che vi faccio notare a questa finestra, con questa luce che entra sul pavimento, queste cromie dei rossi che si accendono, meravigliose, e è un quadro non facile, è un quadro non facile, forse in Italia troppo avanti. E quando invece vai in Francia, la giuria del Salon Parigino di quell'anno decreta la medaglia d'oro per questo giovane italiano che improvvisamente si fa conoscere in tutta Parigi. Beh, in Francia c'erano delle tensioni che in Italia Faruffini non aveva mai avuto, questi sono tutti dei giornali italiani e francesi che hanno satireggiato, hanno diciamo così un po' sbeffeggiato il quadro o l'hanno descritto, ma ne hanno parlato. Il 66, vi dicevo, a Parigi non è una data qualsiasi, perché è una data che vede il grande fermento, perché l'anno dopo ci sarebbe stata l'esposizione universale, a cui peraltro Faruffini partecipa arrivando terzo, quindi di nuovo un'onoreficenza, di nuovo un successo, ma è soprattutto un anno in cui ci sono degli artisti a Parigi che si preparano a esporre autonomamente proprio in occasione dell'esposizione universale perché si sentono rifiutati dal sistema. C'è ad esempio Gustave Courbet, l'autore di queste famose bagnanti tanto scandalose perché così vere, così poco idealizzate. C'è l'ancor più scandaloso Manet che proprio in quegli anni, nel 65, aveva esposto la sua Olimpia facendo parlare tutta Parigi di questa scandalosissima figura per nulla idealizzata che ritrae una prostituta parigina del tempo. Quindi ci sono quei nomi che hanno di fatto, diciamo la verità, cambiato la storia dell'arte. Non sappiamo se Faruffini lo apprezzasse o meno. Io penso, ma questa è una cosa che penso io perché non ci sono testimonianze, che Faruffini Manet l'abbia incontrato anche perché a Parigi Faruffini ha avuto un legame con Kadar, questa galleria che si occupava soprattutto di incisioni e aveva una società, non la società degli acquafortisti, che in realtà era socio anche Manet di questa società, era socio fondatore. È molto difficile che in un contesto simile i due non si siano mai rivolti la parola né incontrati. Quello che però noi sappiamo è che di fatto Faruffini, nelle sue lettere, le lettere che ci sono rimaste, quantomeno non parlava di Manet o di Courbet, ma parlava piuttosto di Ernest Messonnier, che è un pittore super commerciale, è un pittore che a Parigi fa una fortuna con questi quadretti neosettecenteschi, neorococco, che si vendono molto bene. Peraltro un autodidatta, Messonnier, un personaggio stranissimo, che ebbe una fortuna clamorosa dal punto di vista economico, di vendita. Faruffini interessava molto la vendita. Lui ha dipinto dei quadri estremamente piacevoli, come ad esempio gli Scolari dell'Alciato o per il mercato francese, dopo ve lo mostro la toaletta antica che vi ho portato, e dei quadri che hanno anche ambizioni alte, ambizioni accademiche, classiche, come il sacrificio della Vergine al Nilo, che in realtà è di nuovo un quadro di storia con ambizioni diciamo classiche, ma con delle novità insite nel dipinto non indifferenti. E noi percepiamo, guardando questi dipinti, come Faruffini inseguisse di fatto il successo accademico e il successo economico, ma non fosse poi in grado di omologarsi né ai cliché accademici né ai cliché dell'arte commerciale. Quindi era destinato a restare dell'uso a vita, perché anche il sacrificio della Vergine al Nilo, pur nella sua visionaria classicità abbastanza tipica di un certo tipo di Ottocento, ha ancora degli accenti inglesi nella figura di Leisd, che riporta Ophelia, insomma comunque un clima molto particolare. E poi ha di nuovo questa sua compulsione, ossessione per lo studio dettagliato dei personaggi, di ogni singolo dettaglio, di ogni piccola, di ogni piccolo elemento che mette nel quadro, che lo porta a un esasperante grado di autocritica in qualche modo e di volontà di un costante superamento di sé. Il tutto però è una funzione anche di una pittura che si possa vendere. Quando dipinge tua letta antica dice in una lettera di averla dipinta per Goupil. Goupil è il mercante per eccellenza dell'Europa di quegli anni. Diciamo che da Goupil sono passati tutti i pittori italiani che volevano vendere da Boldini a Mancini, a Michetti, fino a Fortuny, no? A Mariano Fortuny in Spagna, che fu un po' il leader di questo tipo di pittura, ma anche in Francia ci sono dei pittori che hanno fatto successo, Jerome, via dicendo, grazie all'intuizione di Goupil, che aveva una maison d'arte quotatissima, internazionale e giustamente Farufini ambisce a lui, anche perché insomma i soldi per Farufini sono sempre stati un tema abbastanza importante. Questo dipinto che proviene dagli anni parigini, anche ad oggi l'unico dipinto parigino che si conosca della sua produzione, è un dipinto che di nuovo ci conferma, no? Quello che vi sto raccontando. Soggetto classico, queste due bellissime figure neogreche, come si diceva al tempo, un po' appunto alla Jerome, ma con una raffinatezza di quel controluce, una finezza sui colori. I francesi hanno sufficiente cultura anche moderna per accorgersi di come Farufini usì il colore, che è una cosa che invece agli italiani sfugge, non riescono a tutti concentrati, no? Nella novità del suo modo di affrontare i soggetti, alla fine in qualche modo restano indifferenti a quello che poi è il suo vero talento, no? Che è l'uso del colore. E immagini di questo clima, cioè con questa idea iconografica, no? Figure femminili, personaggi nella loro intimità, Farufini si trova particolarmente a proprio agio. È la suonatrice di Liuto, questa splendida figura femminile inclinata davanti, che viene verso di noi, no? Quindi che sembra invitarci ad avvicinarci, sì, con questi colori caldissimi che la circondano allo stesso modo notissima, la lettrice della Galleria d'Arte Moderna di Milano, che è un quadro anche di estrema modernità nel soggetto, con lei che fuma la sigaretta, legge il libro, questo taglio di scorcio, ma anche la più complessa Saffo, sono tutte opere che ci raccontano una nuova dimensione anche iconografica della pittura, no? La scelta di queste figure femminili che sì, possono essere riferite comunque a un contesto storico, come nel caso letterario, no? Come nel caso di Saffo, ma che di fatto sono delle figure di donna, no? Sono delle figure femminili e Faruffini ne ha dipinte tante e molto belle, che vivono nella loro intimità. Questi quadri hanno di solito piccole dimensioni, o non grandi dimensioni, dimensioni diciamo da parete, ma fa eccezione il capolavoro della Saffo, che invece è un'opera di più di due metri e mezzo, è un'opera gigantesca, in cui la figura tradisce di fatto quella idea per cui un quadro così intimo debba essere anche di piccolo formato. Questo dipinto era noto fino a poco tempo fa solo da una riproduzione su un giornale, questo, una visita di esposizione di Belle Arti, in cui vedete c'è il sacrificio della Vergine al Nilo e poi c'è la Saffo, in questa vignetta, vignette satiriche, come si usava a quel tempo. Recentemente invece è riemersa dal mercato americano, anche in pessime condizioni, questo meraviglioso dipinto che è stato restaurato e ha rivelato tutta la sua bellezza. Guardate anche questi iris in primo piano, la luce che entra dalla finestra, l'ombra, questa costruzione sempre che ha Faruffini e anche questa capacità di scendere in alcuni dettagli che sono fin leziosi, no? Come la tenda, il ricamo, la piega della stoffa e invece di procedere per macchie di colore per altri elementi che sono quelli che poi reggono la composizione, come questo squillante rosso, no? Che guida il nostro occhio nella lettura del dipinto. E quindi la pittura di Faruffini si, diciamo così, imposta in una tendenza che potrebbe essere stabile, riconoscibile e potrebbe anche avere un suo mercato in Francia dove di fatto non solo viene accettato ma viene anche insomma in qualche modo gratificato dalle critiche del salone non solo. E per questo non ci si spiega oggettivamente o se ci si spiega si possono fare delle ipotesi sul perché sia tornato in Italia. Abbastanza repentinamente, no? Si pare per volontà del padre ma non è detto, comunque per una crisi con la famiglia molto forte anche rispetto al fratello con cui era stato sempre legato, vicinissimo. Rientra in Italia, avrebbe fatto meglio forse a non rientrare perché di fatto forse a Parigi aveva, si era spaventato, aveva trovato una metropoli troppo grande, aveva pensato di non saper gestire questa, diciamo così, questo clima così metropolitano, non sapremo mai, a meno che non saltino fuori documenti nuovi o lettere nuove. Sappiamo però che la pittura di Faruffini ha una forza sempre più intensa man mano che andiamo avanti negli anni, nella sua brevissima vita, che va sempre di più verso un ideale pittorico che di fatto è in forte contrasto con quella speranza di piacere agli ambienti accademici e al mercato di cui vi parlavo prima. Le sopre più straordinarie di fatto sono, poi torniamo ai paesaggi scusatemi, sono dei bozzetti, sono quadri in cui con poche pennellate su tele di piccolo formato lui mette in scena personaggi, a volte anche con vocazione storico-letteraria, il veleno dei Borgia, piuttosto che scene insomma che in qualche modo vengono poi definite come il Catilina in questo caso, ma che non hanno poi una precisa rispondenza con un'iconografia della tradizione. Anche quando dipinge i paesaggi sa essere comunque in cerca di qualcosa, passa da macchie più simili diciamo alla macchia centroitaliana a climi invece ancora tardoromantici come questa bellissima Villa Malta, che tra l'altro è accompagnata anche da uno scritto molto bello che descrive il momento vissuto. Dunque appunto Faruffini torna in Italia e continua a dipingere opere sentite come questa, o opere richieste come questa, quindi opere su committenza che tradiscono un po' più di forzatura dal punto di vista così proprio del clima e dell'espressione, ma che hanno comunque la sua firma, questi pantaloni rossi, i colori, la costruzione mai banale, anche quando dipinge lavori su committenza, riesce comunque ad essere innovativo, ad essere diverso dai suoi contemporanei. È chiaro che la difficoltà di avere un riscontro dal punto di vista dell'ufficialità dell'arte in Italia, unita a un suo problema caratteriale, su cui diciamo non mi sono molto soffermata, ma esiste, perché come vi dicevo fin da giovane, insomma Faruffini è sempre stato un artista contrastato, è sempre stato un artista inquieto, e quei ribelli in un certo senso, anche se probabilmente non sufficientemente ribelle da sopravvivere alla sua inquietudine, quindi di fatto un tormentato. E quando torna in Italia e va a vivere prima Roma, poi vedremo a Perugia, di nuovo cerca se stesso, cerca una dimensione, cerca un mondo, diventa amico nell'ambiente romano di alcuni artisti abbastanza alternativi, come lui, ma non è sufficiente. Si sposa, in realtà prima pensa di farsi prete, si butta nel Tevere, lo recuperano, tenta quindi un suicidio non riuscito e poi alla fine si sposa. Si sposa con una sua modella, una donna di cui si dice bellissima, molto brillante, insomma, poteva essere una soluzione, quella della quiete familiare, avrà anche una figlia da questa ragazza, ma non gli basta neanche quello, è come se la sua instabilità psicologica non trovasse requie, non trovasse tregua. E questa dicotomia che c'è nella sua produzione, quindi il quadro finito, il bozzetto, l'ansia di produrre questi bozzetti che in realtà in cui lui probabilmente si specchia più che nel quadro finito, ma la necessità di piacere che lo perseguita. Sono tutti elementi che anche i suoi contemporanei vedono in lui. Ci sono dei passi sicuramente magari un po' venati di leggenda, no? Perché un po' sopra le righe, ad esempio del Dossi, no? Lo scrittore scappigliato, che nelle sue notte azzurre, qua è la racconta di Faruffini e tra gli aneddoti più o meno, insomma, romanzeschi, il Dossi però non perde mai occasione per dire che Faruffini era geniale, era diverso dagli altri, no? Aveva una scintilla, no? Una luce elettrica in mezzo a delle candele, diciamo così, proprio per citare più o meno una frase del Dossi. Ecco, questa autonomia di pensiero è quello che però lo rovina anche, perché di fatto già negli anni romani Faruffini cerca disperatamente un piano B, una soluzione diversa. si mette a dipingere degli acquarelli con delle ciocciare, che sono deliziosi dal punto di vista così della forma e della riuscita, e lui li dipinge come dei souvenir d'italino per farli acquistare dai turisti e dai pittori che volevano poi dipingere delle figure di ciocciare, e poi decide di dedicarsi alla fotografia. E anche qui c'è una scelta, veramente un salto mortale, da un certo senso, da un certo punto di vista, lui si era sempre interessato di fotografia. Anche a Parigi aveva fatto fotografare i suoi lavori, la fotografia, tenete presente in Italia negli anni 60 dell'Ottocento, è guardata ancora col fumo negli occhi, sono pochi i pittori che serenamente approcciano la fotografia, giusto per dirvi, si sa che per esempio i macchiaioli facevano le foto da cui traevano le loro composizioni e poi buttavano via le foto, perché avevano paura di essere tacciati, di essere dei copisti, dei fotografi. Quindi di fatto c'è ancora un po' di sospetto nei confronti dell'arte fotografica da parte dei pittori. Farufini ha un'idea, è quella di fare queste bellissime fotografie, queste modelle in posa, vestite da Ciociara, per darle ai pittori come modelli per i loro quadri. Di fatto lui però di nuovo sbaglia, sbaglia approccio, perché queste fotografie sono troppo connotate, sono troppo personali. Chi prende in mano una di queste fotografie non può farne qualcosa di diverso nelle luci, nella composizione e quindi non ha fortuna. Sono foto bellissime, ma tutti gli dicono, anche i suoi amici, sono troppo pittoriche, sono i suoi dipinti resi fotografia. E quindi per lui, per la sua modalità di intenzione, un altro, un altro fallimento. Un altro fallimento, forse troppo anche per lui, decide di trasferirsi con la famiglia a Perugia, dove vive la sorella della moglie, un'altra città accogliente, un'altra città che in qualche modo lo accoglie bene. Anche i pittori del luogo lo potrebbero anche leggere come maestro, insomma, è comunque l'innovazione che arriva. Sul luogo lui fa delle opere straordinarie, come questa, Stella Maris, quasi un gonfalone quattrocentesco, di quelli portati in processione, tradotto in dipinto, e lavora all'Armiere Etrusco, che sarà un po' il suo ultimo capolavoro, un quadro che si fa difficoltà anche a inquadrare dal punto di vista iconografico. Non è storico, non è un paesaggio, è qualcosa anche qui di rarissimo, di diverso. E non, diciamo, gli ultimi lavori sono fatti probabilmente proprio con l'intenzione di dare tutto quello che poteva alla fine, fino all'ultimo, però un po' la strada è tracciata di fatto. Infatti il 15 dicembre del 69 Faruffini ingerisce gli acidi con cui stampava le fotografie e si toglie la vita con il cellulo di potassio. Quindi di fatto è un suicidio annunciato il suo, arrivato troppo presto per quello che l'artista poteva dire ancora alla storia dell'arte, e in un certo senso la sua morte mette fine a una vicenda contraddittoria, complessa, difficilissima da inquadrare, ma indispensabile per le generazioni successive, perché immediatamente Faruffini diventa modello, diciamo così, di ispirazione, non per artisti che lo copiano assolutamente, ma per artisti che in qualche modo si ispirano a lui per la libertà delle scelte. Questo è un suo bellissimo autoritratto che sta all'Accademia di San Luca a Roma, con questo colpo di luce sugli occhi, e noi in tutta la pittura successiva, soprattutto quella di ambito scapigliato, non possiamo fare a meno di vedere tracce dell'approccio al soggetto, alla pittura, alla tavolozza, di Federico Faruffini, che resta uno dei cardini di evoluzione pittorica della pittura italiana fra gli anni 50 e gli anni 60 dell'Ottocento. Questo appunto brevemente la vicenda umana e artistica di questo sorprendente pittore che abbiamo voluto appunto esporre ad Arcore, e le opere di Arcore vengono tutte da collezioni private. Abbiamo fatto una scelta, come dire, dovuta, perché in questo periodo i musei erano, quando abbiamo lavorato alla mostra, inavvicinabili erano chiusi per via comunque della pandemia, quindi abbiamo subito dirottato le nostre intenzioni sulle collezioni private che vi assicuro bastano e avanzano, perché ci sono delle opere meravigliose esposte in mostra. Io parlo al plurale perché in realtà in questa gestione della mostra mi hanno molto aiutato Anna Finocchi, che è la massima studiosa di Faruffini, penso al mondo, che quindi è stata preziosissima e che ha anche scritto sul catalogo, e Franco San Nicolò, che è il secondo massimo esperto di Faruffini al mondo, è grande appassionato e mi ha aiutato tantissimo anche nel recupero della documentazione, quindi nella lettura delle lettere, delle incisioni, di tutto quel mondo che contorna l'opera di Faruffini, perché ci sono dipinti su tela importantissimi, ma in mostra sono esposti anche disegni, incisioni e fotografie e bisogna guardarli con grande cura, perché il mondo di Faruffini non è solo quello del dipinto olio su tela, ma è anche quello degli studi preparatori, delle incisioni prese dopo dai suoi quadri, sempre da lui, con questa ambizione di perfezionamento, di studio, che ha connotato proprio la vicenda umana di questo artista e che esce molto bene in questi apparati altri. Quindi ovviamente vi invito ad andare a vedere la mostra di Arcuri, mi sembra ovvio, ma vi invito anche a ricordarvi di questo artista e approfondirlo anche magari con altri mezzi, perché ne vale decisamente la pena, insomma spero di avervi quantomeno suscitato curiosità da questo punto di vista. So che ci sono sempre poi delle domande da parte del tentissimo pubblico della semina, quindi ecco. Sei stato? Allora, la nostra Irene ha già commentato in chat. Infatti... Come sempre straordinaria, Simone, una domanda. Nel quadro parigino della donna con l'Eggio ci vedo... Scorci di quell'impressionismo che doveva venire. E allora, e qui stiamo sempre lì. Noi tendiamo sempre a paragonare tutto all'impressionismo, no? Come se il centro del mondo fosse l'impressionismo francese. Ci dimentichiamo molto spesso che però l'impressionismo, prima che riesca ad avere un impatto sui pittori altri, dovranno arrivare agli anni Ottanta, perché comunque i primi anni, Monet e Renoir, a parte che non sapevano neanche loro bene cosa stavano facendo, come tutti gli artisti, insomma, sperimentavano. Ma poi chiaramente non era neanche così facile vederle le loro opere, no? Soprattutto all'estero. Sul riverbero contrario, che è quello che invece propone a Pontirene, cioè sul fatto che gli impressionisti possano aver visto Faruffini, è abbastanza difficile, ma è vero, questo sì, che comunque nei due anni in cui Faruffini, diciamo un po' meno di due anni, rimase a Parigi, di visibilità ne ebbe come, perché il Salon era il luogo per eccellenza dell'arte. Tenete presente che però Faruffini a Parigi aveva esposto ai Salon dei quadri ufficiali, cioè delle opere compiute, no? Come il Borgia e Machiavelli. È vero però che al di là di Faruffini noi tendiamo sempre a vedere il contrario, cioè l'impressionismo che influenza gli altri, ma in realtà sarebbe ora di ribaltare un po' la prospettiva, perché questo riverbero io lo vedo tanto anche nei macchiaioli nei confronti degli impressionisti. Al contrario, però, non i macchiaioli copiano gli impressionisti, ma la Francia ha guardato a certi esiti italiani. Quindi, probabilmente non direttamente, ma Faruffini si mette in un mondo di pittura borghese, definiamola così, cioè di mezzo, che certamente ha influenzato anche gli impressionisti. Non lui direttamente, il clima di questo tipo di pittura, almeno questo come la vedo io da studioso dell'Ottocento italiano e francese. Io ho una curiosità. Dimmi Stefano. Dopo sicuramente ci saranno altre domande. Mi ha colpito molto il tratteggio che hai proposto di questo personaggio, anche quando l'hai definito praticamente un irrequietto, un ribelle, col senso del limite, si potrebbe dire. Quindi che non ha avuto magari quella forza di diventare lui stesso un'icona, potremmo dire, nello stare fuori dalle... Forse è troppo bravo ragazzo, non saprei dire. Sì, in un certo senso sì. Forse sì, nel senso che i ribelle fino in fondo probabilmente non avrebbe neanche tentato di avere il riconoscimento dell'accademia. Ecco, in questo, a me ricorda tantissimo Manet in questo, perché anche non come pittura, no? Ma come approccio. Anche Manet faceva dei quadri super scandalosi e ci restava male ogni volta, no? Perché non capiva perché era così scandaloso e anche Manet ambiva a vincere al Salon. Lui lo dice più volte e io voglio entrare al Salon, non mi importa di esporre da un'altra parte. Però stiamo parlando di un artista che ha alle spalle una famiglia aristocratica di Parigi, che fa quello che vuole, che la sera frequenta i bar di, appunto, di Battignol. Cioè, stiamo parlando di un altro mondo. Ecco, magari se anche Faruffini fosse nato in un contesto differente, più aperto, no? Anche lui magari avrebbe acquistato fiducia in sé, anche se stiamo parlando di sé, che, insomma, non potremmo, di cui non potremmo mai avere una controprova. Certo è che la sua inquietudine è anche una profonda insicurezza, no? Tanto è vero che sceglie la via del suicidio, insomma, quindi non sopravviva a se stesso, ecco, diciamo così, di estremo dolore e di estremo disagio. E questo nella sua pittura, però, c'è questa fragilità latente, secondo me, anche nelle figure che lui... fragilità non pittorica, fragilità umana, intima, che è straordinaria e anche uno dei suoi aspetti più belli da questo punto di vista, sicuramente. Sì, mi hai colpito. Dopo ci sono delle domande scritte da Pierangelo Maruco in chat. Ok, adesso le guardiamo. La domanda... Cioè, il punto è... Sì, è chiaro, non si può entrare veramente nelle profondità dell'animo umano. Siamo tutti diversi, no? Però è un uomo che ha avuto anche dei riconoscimenti, insomma. Sì. E' anche complesso comprendere bene questo suo perenne insoddisfazione. Allora, se, per esempio, con l'Accademia Italiana, no? Con l'accademismo, diciamo, con il mondo accademico, quindi con Bertini, che era stato un po' l'erede di Hayez, nonché il professore, voglio dire, di Segantini, il professore di Tranquillo Cremora, però c'è un professore che ha dato qualcosa ai suoi allievi, perché dalle sue classi sono uscite veramente il meglio dell'ottocento italiano, ma comunque un accademico. Ecco, Bertini era spietato con la pittura di Faruffini, ma lui è convinto che l'Accademia ce l'abbia con lui. Cioè, Faruffini non legge la critica al singolo dipinto, legge una specie di congiura contro di lui dell'Accademia Italiana, che tutto sommato è anche motivata come idea, perché leggendo le critiche del tempo, a parte due o tre guizzi, insomma, di illuminazione, anche Rovani, che voglio dire, è un critico che è legato anche in un certo senso alla scappigliatura, di fatto su Faruffini ha delle critiche molto pesanti, ha anche qualche momento di sostegno, ma di critici che abbiano veramente condiviso con lui tanto, a parte appunto il buon caro Alberto Dossi, che mi ha sempre parlato bene, non è che ci siano tantissimi critici che l'hanno sostenuto. E lui questo lo leggeva proprio come una persecuzione personale, cioè aveva una sorta di ossessione, no? Di complesso, di così, di persecuzione che non lo fa vivere bene, ecco, non lo porta a vivere bene. Anche nelle lettere ci sono dei momenti di lucidità incredibile, dei momenti in cui il titolo della mostra Io guarda ancora il cielo è stato tratto da una lettera, anzi da uno scritto, non esattamente una lettera, in cui lui fa una tirata poetica in cui dice sono l'atomo in balia dell'infinito, io, la luna, le stelle, il cielo, che da una parte ha un tasso di poesia altissima, dall'altra leggendo quelle righe intravedete un disordine proprio anche a livello mentale, di pensiero, che i suoi stessi contemporanei gli attribuivano, ecco, perché anche nei racconti comunque dei suoi amici c'è questo spavento per quest'uomo che cambiava anche improvvisamente umore, nella quotidianità e dunque anche nella pittura e questo sicuramente non aiuta a far carriera neanche dell'Ottocento. Sì, anche oggi. Anche oggi, esattamente, sì. Gerangelo, vuoi dire a voce le tue domande o preferisci le leggiamo? Come volete, come preferite. Allora, non le vedo più, non so più dove andare a prendere. Le leggo io, visto che aspetto fatica a scriverle. Due cose mi hanno colpito, l'eleganza e la raffinatezza dei personaggi, il riflesso di una visione artistica aristocratica e poi la seconda è la bellezza e intensità dei suoi bozzetti, quasi rivelatore di una cifra artistica interiore più dirompente. Esattamente, sì, sono d'accordo. Sa essere raffinatissimo su alcuni dettagli fino alla leziosità, fino, diciamo, al superfluo e nei bozzetti dove invece rinuncia a queste finezze ha una potenza espressiva sconvolgente. Nelle ultime due, diciamo, nelle penultime due sale di mostra che abbiamo esposto tutti questi bozzetti piccoli ma intensissimi, ce n'è una serie poi sul tema della morte, del veleno, del dramma, che hanno un'energia modernissima. Lo so che è facile col senno di poi dire hanno uno spirito moderno, novecentesco, però è così. Cioè, hanno un... Lì, sì, la velocità dell'impressionismo è già, come dire, è già un po' connaturata, anche se non è una velocità di visione, perché Farufini, esattamente come gli scapigliati, non pensa al vero visto con i propri occhi, pensa piuttosto a un approccio poetico letterario al soggetto, come per la scapigliatura, ma c'è questa velocità di fissare l'immagine, di immaginarsi sempre con questi blu, con questi rossi, con questa accensione di colore che salvano la composizione e che nei bozzetti è superlativa. Secondo me la cosa più bella che ha fatto sono proprio questi piccoli dipinti, sono d'accordo. Sì, sì, lo so. Il ritrovamento presso la Biblioteca di Ravenna di un prezioso inedito, sì, ne ho appena parlato per l'appunto proprio l'altro giorno, è su Dante, tra l'altro, è un disegno dedicato a Dante. Insomma, è l'ennesimo tributo dantesco di Farufini e sono... è di nuovo una scoperta, c'è ancora di che trovare di Farufini, che tutta la parte parigina che mi ha particolarmente interessato proprio per via dei miei studi che sono più rivolti al rapporto fra Francia-Italia, mi piacerebbe veramente poterla approfondire, chissà, magari in futuro anche, insomma, trovare... verrà fuori qualcosa di nuovo, insomma, anche da quel lato lì. E' una domanda che ti vorrei fare... Simona, probabilmente è molto banale, però te la faccio perché è un po' che mi ronza in testa. Anche in questo caso, intanto, complimenti come sempre, ascoltarti è un piacere molto interessante. In questo caso poi ci hai fatto conoscere un artista che valeva proprio la pena conoscere e scoprire. quello che mi ha colpito, quello che ti ho detto da subito, è questa sua autonomia, no? Ecco, questa... come dire, sì, percepire, vive il suo tempo, evidentemente, ha dei riferimenti, maestri o comunque amici, persone che evidentemente ti... come dire, ti impregnano un po' di quell'uno di quel tempo, però si sente questa sua autonomia che sparisce quando, almeno così pare, gli viene commissionato qualcosa e si sente in questa sua autonomia questa libertà. Allora la domanda è molto banale, però desidero farla lo stesso perché mi è sembrato che in altri casi si sia ripetuta anche con artisti di altri tempi. Ecco, quando un artista è così libero, è così un po' fuori, come dire... non dico fuori da tutte le scuole, ma insomma ha una sua rotta e sembra inevitabile che entri in conflitto poi con l'ambiente accademico ufficiale. Questo sicuramente, ma non solo. Sicuramente entra in conflitto con l'ambiente accademico ufficiale, soprattutto un ambiente accademico ufficiale un po' claustrofobico, come era ancora quello italiano degli anni 50-60 dell'Ottocento. Peraltro Farofini è anche una generazione di mezzo, perché vi ricordo per inciso che la generazione precedente ha creduto nel risorgimento, è andato in guerra, si è arruolata, pensava alle grandi, diciamo così, possibilità e speranze sull'Italia Unita. La generazione di Farofini, che è quella anche di Tranquillo Cremona, che è leggermente più giovane, ma non crede più neanche a quello. Cioè è una generazione a fine di disillusi, è una generazione che non ha vissuto neanche tanto risorgimento sulla propria pelle fino a un certo punto, ma non ci ha creduto come i macchiaioli, come gli induno, come quelli nati nel 20, negli anni 20 dell'Ottocento. Quindi già di per sé questa generazione qui è una generazione di traverso, una generazione in mezzo, non è né quella poi dell'impegno sociale, degli anni del divisionismo, né quella ancora romantica, non è neanche quella del vero, appunto, degli anni 20, è lì in mezzo. E come tale vive una, diciamo, mancanza di appartenenza che non è bella dal punto di vista umano, no? Ma al di là di questo, infatti anche gli scapigliati sono finiti tutti male, se vogliamo vedere, tra alcol, le cose, diciamo, suicidi e comunque vite in depressione, non hanno avuto dei futuri così luminosi, nemmeno loro. Detto questo, c'è poi la questione molto vera della solitudine, no? Di ricerca, che io osservo anche nel Novecento, anche in artisti molto famosi. Se un artista non riusciamo a inglobarlo in un movimento, è più difficile ricordarcelo, perché Tranquillo Cremona, Ranzoni, Grandi, sono scapigliati, quindi nel momento in cui uno parla della scapigliatura, recupera tutti loro. Quando un artista non appartiene, può essere anche l'artista più importante del mondo, ma si tende a dimenticarselo. E la semplificazione della storia dell'arte prevede di sistemare gli artisti in grossi macro-movimenti, no? E la non appartenenza non giova, sicuramente, a questi artisti. Però Faruffini e il Piccio, col fatto che sono considerati due momenti di transizione, no? In due epoche diverse, ma sull'Ottocento, sono stati recuperati proprio con questo ruolo di anello di congiunzione, no? Di passaggio. E questo certamente li rende interessantissimi. Però, sì, assolutamente. Non giova l'autonomia, quasi mai. Cioè, giova dopo, alla storia, giova. Grazie. Prego. C'è una persona che commenta che la mostra di Arcore è un vero gioiello. Oh, grazie. Non sono in grado di dirlo, ma ci credo, e in realtà spero proprio di riuscire a... Grazie mille. Grazie. Il problema è che è aperta solo venerdì, sabato e domenica. Però, beh, vi dico intanto, così ve lo dico, se vi interessa, perché ci sono ancora dei posti disponibili, mercoledì nove e pomeriggio farò delle visite guidate in mostra. Se siete interessati, magari dovete scrivere all'Associazione Art che ha organizzato questa visita guidata, scrivete a prenotazioni, chioccio, l'Associazione Art come cuore, quindi hert.it e vi prenotate. E questo potrebbe già essere un'occasione. Altrimenti, comunque, in mostra ci sono spiegazioni, tutto, tutto quello che ho detto stasera viene raccontato sui pannelli della mostra, quindi anche senza la visita guidata, è una mostra percorribilissima. Dovete andare venerdì, sabato e domenica e purtroppo sabato e domenica dovete prenotare. È molto semplice, nel sito del comune c'è il link su Villa Aperte e prenotate l'ingresso, questo per normative covid, non per volontà del comune, ma una volta che avete prenotato poi quando andate non dovete pagare prima, è proprio solo una prenotazione formale per dire che state andando in mostra, mentre invece il venerdì si può andare senza prenotazione. Ecco questo diciamo più o meno il futuro, non so se farò altre visite guidate in futuro, però intanto questa di mercoledì l'ho organizzata proprio, sono tante piccole visite guidate perché i gruppi devono essere molto piccoli, l'ho organizzata proprio perché sapevo che c'era una certa richiesta, quindi ho pensato di farlo insomma. Bello, sì. Vediamo, ci sono altri commenti, altre domande? Molti complimenti, meritatissimi, Simona, si è molto coinvolgente. Mi piace questo personaggio però in qualche maniera, sei caldissimo. Sì, sì, ha anche una sua narrabilità, diciamo così, una sua narrativa. Certo. A me comunque infatti io non ho proprio le qualità per una valutazione competente, però sono belli i suoi lavori, sono realmente belli. Mi ha colpito il fatto che effettivamente non è un personaggio molto noto al di fuori da una cerchia di appassionati. Eh, sai, l'800 italiano purtroppo soffre di una certa poca visibilità in generale, hai detto, sì, sì. però insomma decisamente belli, belli i suoi lavori. Non vuol dire niente, lo so, però io sono belli, altri lo sono meno, ecco, se vogliamo. Questo autoritratto è molto bello, di sé. Questo autoritratto è molto bello, questo non è in mostra perché è in un museo e come vi dicevo le opere dei musei non le abbiamo potute avere, è all'Accademia di San Luca a Roma, questo è bellissimo, ha una forza anche dal punto di vista della lettura psicologica, no? Molto, molto intensa. Sì. Sì, sì. Vabbè. Allora, se non ci sono altri commenti, Simona, ancora un profondo ringraziamento. Grazie. Grazie mille dalla Semina e da tutti noi. Grazie. Che dire, c'è la mostra, ci sono delle limitazioni, come ci hai detto, ma insomma, se appena ne avrete la possibilità, andateci, perché magari incontrate pure Simona, chi può dire? Sono lì da quelle parti. Esatto. No, insomma, ci hai guidato in questo viaggio. Vi dico solo una cosa, scusami che mi stavo dimenticando di dirvi, ma che è una cosa interessante. Al piano di sopra della mostra, fino però al 13 giugno, quindi in realtà manca ancora una settimana, due settimane e poi finisce, c'è una mostra di Enrica Borghi, artista contemporanea, molto nota, insomma, che ha lavorato anche nei grandi musei del mondo, che ha portato i suoi lavori che sono di riciclo di plastica, di materiale utili, diciamo, di materiali di scarto, quindi con una poetica molto contemporanea, molto diversa, ma ha voluto fare un omaggio alla toaletta antica di Faruffini con un'installazione fatta apposta per la mostra. Ve lo dico perché abbiamo voluto mettere insieme il contemporaneo e l'Ottocento dandogli un dialogo in qualche modo che è comunque interessante. Sono due mostre diverse, separate, quella di Enrica Borghi è gratuita, si può andare anche, praticamente, anche senza prenotare, quindi di fatto è un'altra dimensione completamente, però già che siete lì, oltre a vedervi la villa che è bellissima e il parco e la mostra di Faruffini c'è anche questa mostra della Borghi. Quella della Borghi finisce il 13 e quella di Faruffini il 27, 27 giugno. Perfetto, hai anche già risposto a un'altra domanda in chat. Benissimo. Va bene. Allora, ancora una volta grazie Simone. Grazie. Un abbraccio e buona sedata a tutti quanti. Grazie mille. Grazie. Arrivederci, arrivederci a presto.